Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Quando l'assalto di Islamic State all'Europa, quelli che hanno fatto gli attentati non venivano né dalla Siria e dall'Iraq. Erano i figli della nostra Europa. Erano i figli di una sbagliata o mancata integrazione. Questa parola integrazione è un pezzo fondamentale delle politiche di sicurezza. Non è soltanto essere umani, ma è garantire la sicurezza delle nostre città. Il paese che meglio integra è il paese più sicuro. Aggiungo un'ultima cosa per tranquillizzare anche un po' il nostro paese. L'Italia ha superato l'attacco di Islamic State, non per lo stellone italiano, ma perché abbiamo intelligence, forze di polizia e magistratura che hanno prevenuto l'attacco. E' chiaro, raccomando a tutti di conservare con cura queste tre parole. Forze di polizia, intelligence e magistratura. E non le cito per caso. E questo è un messaggio chiaro anche al nostro governo, anzi al nostro governo. Grazie Marco Miniti per essere stato con noi.